Il ruolo della banca, soprattutto la banca commerciale, è quella di stare a fianco alle imprese e quella di accompagnare attivamente le imprese per connettere il territorio con futuro. Un futuro che come BNL BNP Paribas vediamo ancora complesso, a tratti complicato, ma con tante opportunità. Per cogliere queste opportunità bisogna farsi trovare pronte, e il sistema imprenditoriale soprattutto di questa regione lo è, ma bisogna poi scegliere compagni di viaggio capaci di accompagnare in maniera costruttiva questo percorso di crescita. Cosa vuol dire costruttiva? Come BNL BNP Paribas pensiamo che si debba stare vicino abilitando accessi, e gli accessi passano attraverso la capacità di avere piattaforme globali. Come BNL BNP Paribas siamo fortemente radicati su questo territorio, in Italia siamo oltre 16 mila, al servizio di oltre 10 milioni di clienti, ma siamo anche parte della prima banca europea, quindi la capacità di riuscire davvero a connettere un forte radicamento territoriale con una presenza globale in tutti i continenti, e quindi accompagnare in Italia ma anche fuori dai confini domestici.